Metti silenzioso, perfetto, stiamo silenziando i telefoni, perché oggi sono qui con Dede Sonia Agbodan. E cosa ci racconterà Sonia? Io vorrei che lei iniziasse a raccontarmi cosa vuol dire essere afroitaliani, perché Sonia non è soltanto italiana, lei si definisce afroitaliana. Glielo chiediamo a Sonia, iniziamo così questo dialogo tra me e Sonia, Dede Sonia Agbodan. Eccola qui. Ciao a tutti. Grazie Luca per avermi invitato ad essere qui oggi con voi, mi fa molto piacere. Piacere mio, piacere mio. Essere afroitaliani, che bella domanda. Afroitaliani, beh, afroitaliano è comunque ormai una terminologia che fa parte dei nostri giorni. E io mi definisco afroitaliana perché comunque sono sì italiana, come diceva Luca, perché è la mia parte. Però allo stesso tempo afro, perché come potete vedere sono africana, originaria del Togo, e quindi il mix delle due culture che mi appartengono, ovvero la mia cultura togolese e anche quella italiana, mixata insieme e dà vita a quella che è la mia afroitalianità. La bella, la bella questo mix di Africa e Italia. Sonia so che ha una bellissima storia. Un giorno mi ha raccontato e sono rimasto molto colpito, perché lei ha vissuto sia in Togo e ha vissuto in Italia. E ha vissuto in Italia quando era piccina e poi è rientrata in Togo. Raccontaci un attimo, perché la cosa che mi ha colpito di più è quando lei mi disse che in Italia si sentiva africana e in Togo si sentiva italiana. Raccontaci un po' questo fatto. Sembra assurdo sentirlo raccontare così, però effettivamente è proprio così, perché comunque sì, io sono cresciuta qua. Sono arrivata qui in Italia che avevo quattro mesi, quindi ero veramente piccola. Sono cresciuta qua, ho fatto tutto il mio percorso dell'infanzia, scuole elementari e poi verso la fine delle scuole elementari, per un periodo abbastanza lungo, sono rientrata in Togo. E lì per me è stato veramente un impatto forte. Nel senso, essendo comunque cresciuta qua, questa per me è casa mia, l'Italia è casa mia. Non riesco a vedere un altro posto o non riesco a immaginarmi un altro posto che sia casa. Infatti se uno mi dice tornatene a casa tua, a me viene da pensare il mio paese, San Giorgio delle Pertiche, quella è casa mia. San Giorgio delle Pertiche che è un paese, un piccolo paese, un bellissimo paese, è a Padova, nella provincia di Padova. Esatto, quindi io sono Veneta, cioè mi sento Veneta inside. Quindi poi invece c'è stato praticamente questo viaggio che io ho fatto in Togo e avevo dieci anni, quindi praticamente sei un bambino, sei spensierato, vai finalmente a conoscere le tue origini, quindi ritorni nel tuo paese d'origine. Però lì ero considerata da tutti l'italiana di turno. Ho detto ma come? Non è possibile. Mi immagino Sonia l'italiana in Togo, meravigliosa. Quando tipo capitava all'inizio, poi non parlavo molto bene il francese, poi ho imparato anche il mio dialetto d'origine, capitava che in certe situazioni io mi esprimevo, mi dicevano ma dai tu sei zitta, che sei italiana, che vieni dall'Italia. Cioè quindi provate a immaginare il contrasto. Magari ti dicevano anche qualche luogo comune tipo pizza. Sì sì, sì sì, infatti quando a scuola, perché poi quando andavo a scuola mi chiamavano spaghetti, oppure mi dicevano pronto pronto. Ah perché pronto pronto in italiano è una parola che conoscono bene. Sì la conoscono, oppure ciao bella, tutte queste cose qua, sì sì, pizza, erano sempre quei luoghi comuni, molto, cioè che etichetti l'italiano. E a me mi dava fastidio, cioè perché io mi sentivo discriminata, diciamo ma come? Bellissima, bellissima. Invece sì sì. E quindi praticamente quando ero qua in Italia, giustamente ero vista come l'africana, la togolese, perché sei nera e quindi c'era questo contrasto. Invece io mi sentivo italiana perché ero a casa mia. Quando invece ero in Togo mi chiamavano, proprio, mi dicevano proprio perché c'è, in Togo c'è il dialetto ewe, che è praticamente uno dei, c'è il principale, dove i bianchi vengono chiamati iovo. Ah, ok. E quindi, quando mi volevano prendere in giro e far abbiare, mi chiamavano iovo, iovo. Quindi io sarei un iovo? Esatto, tu sei iovo. Io sono iovo. E quindi mi dava proprio mastidio, cioè, è proprio discriminazione. Ah, è proprio, perché è proprio offensivo quindi essere iovo. No, non è offensivo, però, però mi stai dicendo che sono bianca praticamente, c'hai capito? Perché vengo dall'Europa. Ho capito, capito. Allora i bambini, quando volevano farmi arrabbiare in classe, mi chiamavano così. Ti chiamavano iovo, belli. Ma un po' come dire polentone a uno del nord? Esatto, tipo. Esattamente, esattamente. Tutto il mondo è paese. Eh già, è la verità. E poi quindi sei tornata e... Poi sono tornata, quindi ho fatto... Sei andata, allora, ripercorriamo, sei venuta in Italia a quanti anni? Avevo quattro mesi. Quattro mesi in Italia? Esatto. Stai fino ai cinque anni? No, sto fino a dieci anni. Fino ai dieci anni? Sì, sono anche ritornata in Togo, ho fatto qualche vacanza, tipo di un mese, due settimane, ero piccolina. Però quando sono andata proprio per viverci, avevo dieci anni. A dieci anni. Quindi in Togo ho fatto il percorso delle medie. Dopo dieci anni passati in Italia e quindi avendo fatto tutte le elementari, tu ritorni con la famiglia in Togo. Esatto. Quindi proprio all'ingresso nell'adolescenza. Nell'adolescenza, quindi. Pre-adolescenza. Periodo migliore non c'era. Perfetto periodo. La pre-adolescente, Sonia, se ne ritorna in Togo. Se ne ritorna. In realtà è rinata qui, quindi in realtà vai in Togo. Esatto. Però posso dire che, cioè, malgrado a parte questi aneddoti simpatici, è stata un'esperienza bellissima perché, seppure all'inizio difficile, perché comunque sei un bambino, cresci in questo contesto, poi ritorni comunque al tuo paese di origine e anche lì c'è tutta un'altra realtà, un'altra mentalità, impari una nuova cultura, anche proprio anche un modo di comportarti. Quindi non è lo, cioè, ci sono degli atteggiamenti tipici che noi abbiamo qui che averli là vengono visti male e quindi devi anche imparare anche come comportarti. Poi c'è molto il rispetto dell'adulto, quindi anche il modo di rivolgerti. Poi dopo sei, stai molto nelle famiglie allargate, quindi ci sono gli zii, i nonni. Cioè è tutto un contesto diverso. Non è come qui che invece ognuno vive la propria vita, sei in famiglia, mamma, fratelli e basta. Invece lì sei sempre in un contesto molto... Molto allargato. Esatto. E poi comunque è proprio anche la quotidianità, è stato bello. Poi la cosa che, cioè, mi è piaciuta è che lì proprio si è spensierato. E poi c'è un'allegria, c'è una gioia, c'è musica ovunque. Non è come adesso che io esco giù da casa tua e c'è il silenzio tombale. Stiamo parlando di Padua in questo momento. Non voglio, diciamo che ci sono dei locali a Padua dove non c'è proprio questo silenzio. Però è vero che tendenzialmente siamo più silenziosi forse qui. E adesso tu sei diventata anche tu un po' più silenziosa stando in Italia. No. No? Mantengo la mia energia africana. Perfetto. No, e quindi, cioè, la musica ti trasporta ovunque. Cioè, 24 ore su 24 è la colonna sonora della tua vita. E quindi sempre in musica? Cioè, tu sei sempre inverso nella musica, sempre ritmi, rumori, profumi. Cioè, è bello. Diciamo che la voglia di andare in Togo stare venendo a tutti in questo momento. Però dici, la cosa invece che ti mancava dell'Italia. Quando sei andato in Togo... All'inizio ho le comodità. Le comodità. Sì, tipo avere la macchina. Ok. Eh, lì ho imparato a spostarmi molto a piedi. Oppure le cose, cioè, andavi al supermercato, andavi al mercato. E, cioè, c'erano tante cose che erano diverse. Poi sei un bambino, sei abituato, hai lo scuolabus che ti viene a prendere sotto casa, tutte queste cose. No, non c'erano dovevi farti... Dovevi svegliarti presto poi, perché lì la scuola inizia... Essendo che viene... L'alba, la giornata inizia molto presto. Il sole sorge prestissimo. Sì. E il tramonto già alle cinque del pomeriggio, sei, è già buio. Quindi comunque anche la scuola inizia presto, già alle sette in classe. Cioè, quindi dovi svegliarti presto l'alba. Perché se dovevi andare praticamente, se dovevi andare a piedi poi a scuola, chiaramente. Esattamente. Ecco, allarghiamo un po' l'immagine, così ci vediamo. Eccoci qua. Però poi... E tante altre cose che mi mancavano dell'Italia. È vero che dopo, man mano, col tempo, certe cose non sentivo neanche più l'esigenza. Cioè... Ma a un certo punto accade che Sonia ritorna dal Togo in Italia. Quanti anni? 14. A 14 anni. Quindi dai 5 mesi ai 10 anni in Italia. Dai 10 anni ai 14 anni in Togo. E poi il ritorno e il rientro in Italia. E quando sei rientrata cosa è accaduto? Trauma. Un trauma. Trauma psicologico. Raccontaci questo trauma psicologico. Della serie. A vedere come sorridi non sembra che tu abbia sofferto di traumi. Ma perché poi lo superi, dopo cresci. Ma... Beh, adesso che ero veramente in piena adolescenza, ovviamente non vedi l'ora di tornare, di vedere gli amici dell'infanzia. Ti rimane un'idea di Italia che tu hai lasciato quando avevi 10 anni. ritorni qui e invece... Un'idea di affetti, di... Di affetti, ma anche proprio di tutto. Invece torni che già anche proprio sentivo... Mentre fin da piccola non avevo... Da piccola non ho mai vissuto, sentito il razzismo. Ah, ah. Quando sono ritornata, lì ho avuto questo impatto. Ero tornata anche da un percorso scolastico che comunque in Togo ci ha avuto una formazione veramente ad hoc. Perché in Togo, mi racconta Sonia, che la scuola ha una formazione molto seria, molto pretenziosa anche, no? Ero, infatti quando ero tornata andavo benissimo a scuola e anche questo secondo me era visto un po' come questa qua che arriva dall'Africa. Perché tanti non sapevano... Perché il luogo comune... Il luogo comune era... Noi in televisione vedevamo magari queste situazioni appunto di disagio, ma il Togo comunque è da anni che ha una scuola altamente preparata. Ma è sempre stato così e quindi, cioè anche all'epoca anche i miei genitori, mi raccontavano sempre, hanno sempre avuto un'istruzione... Beh, i tuoi genitori sono venuti in Italia da laureati oltretutto o hanno... Sono venuti come studenti e hanno terminato gli studi laureandosi qua all'università. E sono laureati... Sì, sì, per esempio mio padre ha laureato in ingegneria informatica, quindi... E in Togo, pensa che all'epoca, prima, dopo quando è arrivato qui in Italia, ha cambiato, ma aveva iniziato a studiare medicina. Ho capito. Sì, quindi nel senso... La scuola comunque è una cosa su cui, cioè in Africa, è molto importante studiare. Infatti, secondo me, c'è una formazione... Tutti quelli che escono, veramente, sono proprio... E io, infatti, non ho avuto difficoltà. Il mio percorso delle superiori l'ho fatto molto facilmente. E le superiori che cos'è? Cos'è il scelto? Ho fatto liceo delle scienze sociali. Ah, liceo delle scienze sociali. Sì, sì, sì. Forse anche per comprendere perché qualcuno... Per comprendere tante cose. Per comprendere tante cose. E mi è servito comunque. Sarà per quello che poi comunque sono riuscita ad affrontare tante difficoltà a testa alta e anche tranquillamente. rispetto a tante persone che invece ho visto in difficoltà. E quindi... Ma come anche i giorni d'oggi si sentono di tanti casi di bullismo. O comunque tutte quelle situazioni discriminatorie che ti fanno riflettere. E un po' dispiace anche perché alla fine siamo tutti uguali. Cioè, è triste che ci sia... Ma tu ti senti più italiana o più togolese? Questa mi sa che è una domanda complessa. Questa è molto, molto difficile. Molto difficile questa domanda. Quanto mi dai? Eh, no, no, no. Un mio idol? No. Raccontaci. Io in realtà mi sento entrambe. Cioè, non posso dire... Ovvio, allora, sono togolese e sono fiera e contenta di esserlo. Dillo, dillo, guarda, guarda la gentile. Sono togolese, sono fiera di esserlo. Però allo stesso tempo sono anche italiana, cioè... E sono fiera di esserlo. E sono fiera di esserlo. Ma anche italiana. Cioè, entrambe alla fine sono il mix di queste due culture. E quindi, cioè, non sarei quella che sono oggi se non avessi entrambe dentro di me. Siamo quello che viviamo, quello che respiriamo, quello che mangiamo. La cultura di cui ci nutriamo. Questa tua storia mi fa capire proprio questo. Sei l'esempio. L'esempio, l'esempio da questo punto di vista che è chiaro. Sì, sì, sì. Bello, bello. Perché appunto è vedere come ogni luogo ti può lasciare dentro, ti può dare qualcosa di importante. E poi diventi ciò che frequenti, che vedi, i sapori, gli odori, che si mescolano e diventano altro. E questa è una cosa molto, molto, molto bella, molto bella che ci racconti. Che cos'hai qui in testa? Ne so qui, qui, cos'è? Come si chiama un nome? Questo è il turbante. Perché è una cosa meravigliosa. Intanto chiamo turbante. Io solitamente il turbante... Ora in inglese è headwrap. Headwrap. Yes. Headwrap. Infatti se cercate anche sul web li trovate. Ormai diciamo che... Vedi che anche questo alla fine, la nostra cultura influenza comunque anche la moda e tutte queste cose. C'è un fatto da dire, quando Sonia dice la nostra cultura io non capisco mai se sta parlando della cultura italiana o della cultura togolese. Aiaiai, in questo caso è la cultura africana. Ah, vedi, 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 vedi. Questa è quasi uscita dalla parte africana di Sonia. È vero. Per quello ti dico, sono il mix di entrambe perché se adesso parlavo di un'altra cosa dicevo vedi che nella nostra cultura tu mi avresti detto ma italiana o togolese? È difficile comprendere quando mi dici questa cosa perché appunto è talmente... Sei talmente italiana e talmente africana... Perché se io adesso vado all'estero, per esempio, mi trovo in un contesto in cui stanno criticando gli italiani. Cioè io difendo gli italiani perché cacchio sono italiana. Cioè in quel momento mi metto in un dibattito e cerco di difendere quello che è il mio paese. È ovvio. Quindi... E ti è mai capitato di dover difendere gli italiani? Sì, ci sono capitate delle situazioni in cui stai chiacchierando o emergono delle cose in cui sì, assolutamente. Secondo me il viaggio ti arricchisce e quando tu parti, parti che ovviamente non sai a cosa vai incontro, però quando torni, torni che sei un'altra persona. Cioè ti lascia comunque quel qualcosa che ti fa fare quel passo in più. Il viaggio quindi deve stravolgerti o deve comunque darti qualcosa? Stravolgermi non necessariamente, però... Cioè io non pretendo niente dal viaggio, io parto. Però poi alla fine mi lascia sempre qualcosa... Capita spesso che quando un italiano va all'estero e si confronta o si incontra con comunità italiane presenti sul luogo, no? A me è capitato di andare in Francia e collaborare con musicisti italiani che vivono in Francia, ad esempio. Tu cerchi questo oppure vai e chi incontri incontri... Vado e chi incontri incontro. Poi è ovvio che se vado in un paese dove ho delle conoscenze, so che c'è la possibilità di incontrare qualcuno che appartiene alla mia cultura. Quale delle due culture? Quale delle due culture, la domanda è stata spontanea. Metteremo anche, sicuramente dovremmo mettere sullo schermo ogni tanto una frase che quale delle due culture indovina. Allora la sì, cioè cerco anche di... però mi piace di più nel senso io non programmo troppo, vado e vivo. Quello che arriva, arriva. Bello, bello. Utilizzi gli strumenti che hai imparato, quindi la lingua italiana. Sì. La lingua togolese. Sì. La lingua francese. Sì. E l'inglese? L'inglese. Cioè quelle sono le lingue principali. Con questo vai comunque. Sì, sì, sì. Poi per esempio io all'università, nel mio percorso universitario, mi sono iscritta a lingue orientali. Quindi studio cinese. Ecco, ora Sonia sta... Una togolese italiana. Che stai? Una togolese italiana che sta studiando il cinese. Fantastico. Vabbè, che dire, bellissimo. Mi hao. Ecco, mi hao. Salutiamo gli amici cinesi in ascolto. Un vero futuro del mondo. Sì. E secondo te quale potrebbe essere appunto il futuro del mondo? Che domanda. In che senso? Quale potrebbe essere... Allora, da una parte potrebbe esserci quello che è il tuo desiderio, no? Quale sarebbe il tuo desiderio? Qual è il futuro del mondo che tu desideri? Dall'altra parte potresti fare anche il nostro adamus della situazione e dire, per me il futuro del mondo sarà. Scegli tu. Se vuoi parlarci di quelle che sono le tue speranze, oppure se vuoi fare una previsione di quello che potrebbe essere il futuro del mondo. No, una previsione è un po' difficile, cioè è una grande responsabilità. Sì, è una grandissima responsabilità. Quindi non mi permetto di fare previsioni. Ovvio che si cerca sempre di pensare in meglio e adesso arrivati ai giorni d'oggi si vede un po' com'è la situazione attuale. Penso che ognuno di noi vorrebbe un mondo migliore. Cioè, sembrano un po' quelle frasi già fatte. Sembra un po' retorica questa. Ma in realtà... In realtà? Cioè, dovremmo essere tutti... Cioè, una grande famiglia. Dovremmo mescolarci un po' di più, quindi. Sì, sì, sì. Il concetto della grande famiglia è molto bello. E poi appunto questa mescolanza di cui parlavi anche prima, di culture, potrebbe... Anzi, la faccio a te la domanda. Potrebbe questa mescolanza di culture essere veramente la chiave per un nuovo mondo e per un futuro di pace, di libertà, di uguaglianza, di... Non dico di serenità, ma comunque per un futuro nel quale si possa costruire qualcosa per il domani e non solo distruggere. Secondo me sì, questa è la chiave. Sonia può essere una di queste chiavi. Il suo esempio, la sua storia, la sua vita e... E insomma, io penso che ci sia molto da imparare appunto da una storia come quella di Sonia. E quindi io la ringrazio tantissimo per essere stata qui oggi, per aver parlato con me, con tutti voi che vorrete condividere e ascoltare questo video. Vi ricordo anche di entrare nella pagina YouTube dove questo video sarà depositato e se volete appunto iscrivervi... Grande Luca Vassanese! E se volete iscrivervi, fatelo, perché così posso anche avvisarvi per nuovi video che verranno inseriti in questa pagina. Quindi andate, iscrivetevi. Abbiamo anche adesso aggiornato la newsletter, quindi anche tramite newsletter poi avviseremo di queste nuove uscite. Voglio anche dirvi che Sonia sarà l'interprete, la protagonista di uno dei miei prossimi video. Quindi anche qui, anche oggi abbiamo conosciuto una persona che farà parte di un mio prossimo video. Io sono molto contento e onorato di questa sua partecipazione. Ha portato all'interno di questo video il suo sorriso, la sua bellezza. Ma l'avete potuta conoscere qui, che è una bellezza estremamente importante anche dal punto di vista del suo spirito, del suo percorso, della sua spiritualità. Grazie ancora Sonia di essere stata qui. Regalaci l'ultimo sorriso. Ciao a tutti! Anzi, ne faremo altri video con Sonia, quindi non sarà l'ultimo sorriso di Sonia in questo video, ma ne vedrete altri. E sono sicuro che vi farà piacere anche a voi di questa sua presenza. Ciao! Buona serata! Grazie, ciao a tutti! Ciao, ciao!